Ciao a tutti. Oggi parlerò di quale è il mio programma in settembre. Adesso è l'inizio di settembre e mio figlio ha già finito tre settimane di scuola. La mia figlia ha fatto la prima settimana di scuola. La prima settimana era solo un'ora al giorno. Sarà due ore al giorno per la seconda settimana. Infine sarà tre ore al giorno dalla terza settimana. Il primo di ottobre io e mia moglie celebreremo il nostro decennio anniversario del matrimonio. E' difficile credere. Siamo sposati da dieci anni. Devo comprare un bel regalo per lei. Non ho molto tempo per comprarlo. Solo quattro settimane. Andremo a Taiwan per festeggiare. Non siamo mai stati a Taiwan prima. Spero che sia bello là. Bye bye.